Ben trovati nell'angolo dello sport, intanto vi do due date da assegnarvi sulla vostra agenda. Pescara-Vercelli sarà giocato venerdì 23 di ottobre alle ore 19, mentre Novara-Pescara sarà giocata questa partita lunedì 26. Parliamo invece della nostra squadra che si sta preparando per la partita importante di sabato contro il Cagliari. Un Cagliari pieno di ex, importanti. Sarà una partita molto delicata, soprattutto perché dopo i due pareggi che hanno lasciato un pochino di amaro in bocca ai tifosi per dei punti persi in maniera inopinata, c'è la possibilità di rifarsi perché una vittoria, ancorché in casa, contro il Cagliari sarebbe tonificante al massimo. Oddo sta cercando in tutti i modi di preparare la squadra, anche e soprattutto sul piano psicologico, perché diciamoci la verità, non è soltanto una questione di moduli il gioco del calcio, perché se fosse così avremmo dei robot sul campo, sul terreno di gioco. Invece abbiamo degli uomini, anzi, molto spesso abbiamo dei ragazzi che risentrano di certe situazioni e pertanto è opportuno che si lavori sulla loro qualità psichica. Bisogna che la squadra entri in un'ottica di rendimento costante, ci vuole determinazione, ci vuole soprattutto spirito di sacrificio, ma anche e soprattutto una particolare attenzione nel corso della gara. Certe disattenzioni vanno pagate caramente, ne sa qualcosa Torreira, bisogna avere sempre di vista la partita con una concentrazione massima, proprio per evitare di fare degli errori che poi costano cari non solo a se stesso, ma a tutta la squadra. Quindi, dicevo, non è solo una questione di moduli, ma anche e soprattutto una questione di preparazione psicologica. Il Pescara sta cercando delle soluzioni alternative, insomma, Memushai sarà squalificato, è squalificato per una giornata, quindi bisogna trovare l'elemento ad hoc nel centro campo che possa dare quella forza fisica, oltre che tecnica, che poteva garantire Memushai. Gli altri ragazzi sono tecnicamente molto validi, sono belli da vedere, diciamoci la verità, però non hanno quella grinta, quella, come avrebbero detto i latini, quella vis pugnandi, quella forza di lotta che a centro campo serve, perché il centro campo è la zona nevralgica del gioco, lì si crea per la propria squadra e si distrugge per la squadra avversaria. A centro campo ci vorrebbero elementi tatticamente ben disposti, ma soprattutto tecnicamente validi, ma anche supportati da una forza fisica, da una capacità di lotta determinante. Si parla di alcuni inserimenti, io mi fermo qui e dico perché in definitiva Oddo sta mistiando un po' le carte per cercare di tenere un po' tutti sulla corda, ma anche per evitare che ci siano dei rilassamenti, perché quando uno sa di non giocare probabilmente è portato a rilassarsi e poi invece all'ultimo istante potrebbe o dovrebbe poter entrare in campo. Quindi diciamo che è un momento delicato per il Pescara, una vittoria annullerebbe ogni mugugno, una vittoria ridarebbe slancio e vitalità a questa formazione, in caso contrario, insomma, vabbè, ne parleremo dopo perché in definitiva il nostro compito di giornalista è raccontare i fatti, non di predeterminarli. Quindi ognuno ha il proprio ruolo, ognuno ha il proprio lavoro. Quindi Oddo prepara la partita, i giocatori giocano la partita, noi la commenteremo dopo. Questa è nella realtà delle cose, è proprio nel gioco delle parti. Bene, possiamo chiudere qui. Un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre, da Gianni Lussoso. Un saluto particolare e affettuoso al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.